Per il suo lavoro non è solo un'autorità di protettorio, è una differenza. Quindi, da qui, quando ho fatto questo, faccio il passaggio full full. È tecnico, senza il rischio per capire un forte contatto. perchè il grosso ruolo è davvero importante, perchè questi ragazzi, 15-14 anni, non si sentono molto forti per giocare in una situazione forte di basket. Quindi, questo equipamento dà loro la confidenza, per farvi un rischio più in loro posizione, in loro posizione, in loro posizione, e per essere confidenziali che potrebbero supportare un contatto, un forte contatto. Ok. 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 Good. Ok. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e... Grazie a tutti. Grazie.